SENSUALITÀ, LIBERTÀ, STILE Qui è con il presidente François Mitterrand, a cui presentò nell'84 una proposta per la tutela degli animali. L'ex star du cinema français était venu s'informer des conditions exactes de détention des animali. Gli animali ha usato tutta la sua notorietà. Qui, nell'87, tentava inutilmente di visitare un centro per randaggi, a Nantes. Qui, nell'88, sosteneva la lotta contro la caccia alla tortola. E qui, nel marzo del 90, partecipa alla liberazione in mare di Marcial, un cucciolo di foca raccolto in Francia ma curato in Olanda. Una seconda carriera, quella dedicata agli animali, che per Brigitte Bardot è diventata una ragione di vita.